Ma come mi viene in mente di girare i video con sto caldo? Ciao a tutti amici di XiaomiToday.it dal vostro Emanuele. Nell'unboxing che abbiamo pubblicato oggi vi ho detto che il postino suona sempre due volte a casa XiaomiToday.it e infatti anche oggi ha suonato per ben due volte in quanto ha consegnato due pacchi. Uno arriva da Honor Buy mentre l'altro scopriamolo insieme dopo la intro. Ed eccoci qua amici a spacchettare il primo dei due pacchi arrivati oggi. Scusatemi per la location ma oggettivamente fa un caldo bestiale. Quindi ho cercato un po' d'ombra perché in casa si moriva davvero tantissimo. Comunque bando alle ciance partiamo con l'aprire quindi spacchettare il primo prodotto che come vi ho detto arriva dai nostri amici di Honor Buy. Quindi spedizione dall'Italia e garanzia tutta italiana. Ma per quale prodotto? Vediamolo. Lì c'è il mio nome ma lo conoscete già. Andiamo ad aprire come è consueto fare in queste occasioni. Ed andiamo a buttare la scatola. Davvero impacchettato molto molto bene questo prodotto che sinceramente non so proprio cosa possa essere. Speriamo di non essere usciti fuori dall'inquadratura. Forse sto cominciando ad intuire cosa possa essere. Buona recensione e buon lavoro. Ciao da HonorBuy.it Grandissimi gli amici di Honor Buy che ci inviano il Mi Pad 4 finalmente nelle nostre mani adattatore per presa cinese e ci inviano anche una protezione in vetro temperato per appunto il nostro Mi Pad 4. Quindi naturalmente potrete acquistare queste cose direttamente dal loro store che appunto ha già disponibili anche gli accessori. Ma vediamo insieme cosa contiene questo Mi Pad 4. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Davvero bellissimo. E ultracompatto sicuramente più compatto rispetto alla precedente generazione nonostante venga mantenuto un 8 pollici. Noi abbiamo la versione con l'espansione di memoria quindi tramite scheda micro SD non la versione con la scheda SIM ma fondamentalmente questa tipologia di prodotti sicuramente nasce più per un utilizzo da divano. Quindi SIM o no è abbastanza soggettivo l'utilizzo. Qui abbiamo appunto lo spillino che ci permetterà di far fuoriuscire il carellino delle SIM e il classico manualetto in lingua cinese che non ce ne facciamo praticamente nulla. Richiudiamo il tutto mettiamo anch'esso da parte e troviamo il cavo per la ricarica nonché trasferimento dati compresa USB di tipo Type-C ed abbiamo il caricatore da rete davvero compatto guardate davvero microscopico vediamo che fuoriuscita un 5V 2A quindi una ricarica diciamo semi rapida fortunatamente Honor Buy appunto ci invia anche l'adattatore ma vediamo un po' più da vicino questo bellissimo Xiaomi Mi Pad 4 colorazione nera davvero elegante una colorazione opaca fotocamera posteriore ricordiamo che abbiamo all'interno il processore Snapdragon 660 davvero un portento qui sul profilo sinistro abbiamo appunto il carellino per espandere la memoria tramite scheda microSD tasto di accensione e bilanciere del volume qui sotto abbiamo dovrebbe essere un doppio altoparlante stereo se non vado errando l'ingresso appunto Type-C con supporto OTG fortunatamente viene mantenuto l'ingresso jack da 3,5 mm microfono principale per eventualmente le videochiamate e qui abbiamo appunto la camera frontale con i vari sensori di luminosità e prossimità dovrebbe essere questo il tutto prendetelo un po' con le pinze devo logicamente studiarmelo e in questi giorni faremo la recensione completa di questo fantastico prodotto mettiamo un attimino da parte anche questo ed andiamo a questo punto a spacchettare questo nuovo questo pacchetto che ci arriva anch'esso da degli amici stop! fermi tutti! delusione catastrofica stavo aprendo il pacchetto e boom! mi è caduto dalle mani ho rotto il pacco come si suol dire? ho rotto le scatole in questo caso quindi niente amici per questo unboxing termina qua mi dispiace ma aumenta l'hype perché all'interno era contenuto un prodotto davvero davvero eccezionale credetemi ne vale davvero la pena quindi amici per il momento è tutto alla prossima! ciao!